In questo viaggio erano in dodici. Capitano, a te l'onore. Vorrei fare un brindisi con tutti, mi raccomando. Così diversi, diffidenti, ma uniti. Ragazzi! Non saliti. Finché una tempesta cambiò tutto. E tutti. Una grande coproduzione internazionale. Quanto non era ancora? Non ve lo so dire con certezza. Effetti speciali per un colossal sorprendente. Attentale! Non lo so com'è successo. Siamo sopravvissuti. In prima visione sul Rai 1. Abbiamo provviste ancora per un po'. Siamo finiti in questo casino per colpa di noi. Gli spoli! Una storia che vi terrà col fiato sospeso. Non te lo chiedi mai se abbiamo fatto la cosa giusta. Aiuto!